Dopo aver incontrato il presidente palestinese nel palazzo presidenziale di Betlemme, sulla strada che lo ha portato la piazza della Mangiatoia per la celebrazione della Santa Messa, Papa Francesco è sceso dalla Jeep, si è avvicinato al muro di divisione tra Betlemme e Israele e vi ha sostato davanti, raccogliendosi in preghiera per qualche minuto.